Bianco di Piombo è il titolo del nuovo film di Dino Viani, il regista di ari noto nel panorama del cinema europeo per il suo impegno nella valorizzazione e promozione delle tradizioni e delle bellezze della sua regione, l'Abruzzo. L'opera, già presentata alla Fiera Internazionale del Restauro di Ferrara e al Museo delle Genti di Abruzzo, è il racconto realista e sincero del delicato lavoro di restauro del Chiostro di San Felice nell'ex convento di San Panfilo a Spoltore. realizzato anche grazie alla collaborazione dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, il Museo Sperimentale d'Arte Contemporanea e di Terra Immaginare Film. Ma sì, io credo innanzitutto che appunto la civiltà di un popolo si misuri proprio dalla propria cura della bellezza. Se noi pensiamo a quante importanza aveva la bellezza nell'antichità, nei popoli antichi, nella Grecia, quindi il nostro paese che è appunto patrimonio, possiamo dire mondiale della bellezza, deve assolutamente salvaguardare questi materiali affinché possano essere protratti nel tempo per imperitura e memoria. Ecco, un lavoro raccontato alla maniera di Dino Viani, quindi una cura del realismo sotto certi aspetti, no? Senza aggiungere nessun additivo. Ma diciamo così che io ho preso spunto da questo evento, da questa circostanza che è appunto il restauro della cripta di San Panfilo a Spoltore. Ma naturalmente anche in questo caso ho cercato di raccontare il senso sacrale del tempo, perché noi non possiamo pensare o pretendere che le cose accadino senza che noi si dedicassi ad essa del tempo, quindi un tempo sacrale, che riguarda un po' diciamo il lavoro che faccio nel mio cinema. E in conclusione, al di là delle presentazioni di Ferrara e Pescara, altre occasioni per poter vedere questo capolavoro? Intanto grazie per il capolavoro. Diciamo che da questo momento in poi il film dovrà iniziare a muoversi per i canali adeguati, festival, rassegne, poi li vedremo, insomma.